musica allora signori e signori buonasera ladies and gentlemen, good evening questa sera è un concetto molto originale originale perché parte dalla ricerca di musica folcloristica riarrangitata e trasformata in una maniera contemporanea questa sera è un concerto molto speciale perché inizia da quattro canzoni e l'artista riarrangione in modo contemporanea quindi è molto interessante perché è la combinazione di accordione e mezzo sobrano e signore è una combinazione anche molto originale perché ci troviamo di fronte a fisarmonica e mezzo sobrano cantante lì di mezzo sobrano loro sono veramente dei grandi artisti sono veramente degli amici che io mi onoro di aver invitato al PIF 2018 e vi ringrazio della vostra presenza sono molto grandi artisti potete leggere il curriculum e sono miei amici e sono molto felice di presentare questo concetto speciale Tiziana Portoghese e Francesco Palazzo D'Uomo Volstone D'Uomo Volstone D'Uomo Volstone Prima di tutto desidero ringraziare l'organizzazione del PIF l'amico direttore artistico Renzo Ruggeri un ringraziamento speciale alla ditta Bungari che ha voluto fortemente questo concetto e ne è lo scorso e che insieme alla 07 la fabbrica di fisarmonica di 07 insieme alla Bungari vi danno l'occasione di farvi ascoltare uno strumento speciale realizzato appunto nella loro fabbrica che è appunto uno strumento che imbraccia questa sera uno strumento davvero particolare frutto di tanti anni di ricerche come il nostro repertorio che nasce da una ricerca di oltre dieci anni nell'ambito della musica popolare e folkloristica tradizionale di tutto il mondo quando parliamo di musica tradizionale ci piace andare oltre la tarantella e la canzone napoletana che comunque rappresentano un patrimonio gravitario ma ci piace spaziare andare oltre i nostri confini e abbracciare il mondo in un unico respiro e il programma di questa sera in qualche modo rappresenta un viaggio musicale intorno al mondo vi porteremo dalla Svezia alla Spagna dalla Spagna al Giappone a Irlanda alla Corea all'Italia e anche in altri posti quindi vi auguriamo un buon viaggio buon concerto e annunceremo di volta in volta i brand qui ci sono quattro posti posso dire? qua quindi sono antico si le spiegazioni ma le perdono allora il primo brano il programma per stasera è un brano antico del 1400 svedese ripencare la giovane Karen una fanciulla che viene avvicinata da un principe da un nobile a cavallo il quale le fa molte offerte in realtà pure si urla ma lei non cede finché lui la minaccia di farla rotolare da nobile all'interno di una bocca di spigli ma lei non cede e viene salvata da uno solo di angeli sono tutti arrangiamenti originali il nostro ritenkani 裏 lukom il 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 Pag. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 , a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.